Le braghette corte Un bimbo, cresciuto in una famiglia poco benestante, era costretto a mettere fino a lavorarli gli abiti già usati dai suoi fratelli maggiori. Essendo il più piccolo, pareva destinato a finire di sfruttare fino all'ultimo i panni di tutti i membri della famiglia, almeno quelli di sesso maschile. Mai, in vita sua, aveva potuto acquistare quello che rispecchiava il suo gusto o la sua misura. Pur sempre il minore, crescendo, aveva superato di statura i suoi familiari. A quel punto, specialmente i pantaloni, erano sempre troppo corti. Sembrava uscito direttamente dalla lavatrice, dove la centrifuga gli aveva ristretto addosso le braghe. A scuola lo prendevano in giro e il suo soprannome, neanche a dirlo, era Braghette Corte. Mai preso sul serio, perché anche durante i discorsi amicali, quando voleva intervenire, erano sempre pronti a dire, prima di ogni suo intervento, «Sette tutti, sentiamo, cosa ha da dire, Braghette Corte!» E così facendo, veniva screditato continuamente. Deliso dai coetanei, invece, alle ragazze faceva tenerezza. Cercavano spesso di inserirlo. Lo invitavano ad unirsi per condividere gli spazi e gli argomenti. Era orgoglioso, ma nessuna lo prendeva in seria considerazione, se non come complice di giochi. Non si andava mai oltre quella simpatia, mentre lui avrebbe voluto frequentare specialmente una sua compagna, che trovava particolarmente carina. Era la più corteggiata, e lei si confidava proprio con lui di quegli approcci, e sorridevano spesso insieme, divertiti. Si rendeva conto che se non si predisponeva velocemente a cambiare la sua condizione di sfigato con le braghette corte, non avrebbe avuto grandi possibilità con la più graziosa e dolce ragazza che avesse mai conosciuto prima. Più si frequentavano e parlavano, più si ritrovava innamorato. Doveva assolutamente fare qualcosa. Non avrebbe potuto conquistarla con quel ridicolo vestiario. Nessuno lo prendeva sul serio. Figuriamoci lei, vederlo come il suo possibile fidanzato. Cominciò a diventare un'ossessione. Doveva uscire da quella situazione precaria per se stesso e per il resto della sua famiglia, che da troppe generazioni vivevano in uno stato di miseria senza riuscire a risollevarsi. Quel suo amore sarebbe stato lo stratagemma che l'avrebbe aiutato e spronato a cambiare per sempre quel ripetersi in fausto. Oltre ad andare a scuola, il suo tempo libero era utilizzato anche per trovare il modo di costruirsi una vita agiata, ma segnata anche da valore. Decise di aiutare quelli meno fortunati di lui. Stabilì che gli abiti, che per così tanto tempo l'avevano perseguitato, sarebbero stati il tramite per il suo successo. Iniziò usando la sua cameretta. Si fece regalare degli stand vecchi e delle stampelle dai negozianti della zona. Mise insieme diversi indumenti smessi, presi da conoscenti e parenti. E invitò quelli che ne avevano bisogno a vestirsi da lui gratuitamente, con la promessa che quando avessero potuto, ne avrebbero portati degli altri presi in giro. E così accadde. Molti di quegli aiutati si presentarono con indumenti trovati o racimolati. Chiese alle sue conoscenti di aiutarlo, nel caso, da sistemarli, cucirli e rattopparli. Quelli accantonati da altri, perché piccoli o semplicemente perché ne erano stufi, cominciarono ad essere carini, anche poco costosi, se non per l'impegno usato nell'accumularli e nel curarli. Cominciarono ad essere interessati anche i suoi coetanei, quando si iniziò a spargere la voce. A quel punto ogni persona poteva fare un cambio, portarne uno smesso e prenderne uno usato. La cosa funzionò. A quel sistema avrebbe aggiunto due abiti scartati, per prenderne uno di qualcun altro, e così via. La cosa prese piede, e pensò bene di incrementarla e farla diventare un'arte. Cominciò ad essere talmente bravo, che molta gente faceva riferimento a lui. Conclusero che il cappannone comune sarebbe stato messo a sua disposizione, per proseguire in grande la sua idea. Di solito, le intuizioni utili per la comunità vengono sostenute e supportate in tutto per tutto. Quindi le persone disponibili nel tempo libero si recavano a dare un contributo. Divenne presto un simbolo per la società. Un giovane uomo era riuscito da solo, unicamente con la sua volontà, a creare un sostegno ed essere utile alla collettività. Fu preso in considerazione e rispettato da tutti, ma alla persona a cui teneva in modo speciale fu riservata la sua particolare attenzione. Si sarebbe esposto e le avrebbe parlato. Ormai aveva dismesso le sue vecchie braghette corte e vestiva con abiti dignitosi e della sua misura. Mise la sua futura felicità in ballo in quel discorso. Organizzò al meglio l'incontro tanto sospirato. Quella confidente che aveva avuto sempre vicino e l'aveva sostenuto durante il percorso intrapreso fu felice di trovarsi in sua compagnia e rimase silenziosamente attenta mentre lui, serio, faceva la sua proposta. Gli sorrideva dolcemente mentre a fatica farfugliava il suo amore sempre provato. Così lo rassicurò dicendogli che non aspettava altro. Lo aveva amato da subito. Lo amava da quando lo aveva visto con quelle sue braghette corte. peggio di